la mattina il santo arriva all'interocio e si perde il prete dice la messa la previsione che si fa allora una volta finito poi cominciamo l'asta quando inizia la messa iniziamo l'asta poi l'ultimo prete che si fa è quella che il santo ha giudicato il santo la merda two e cinque due e cinque ma è che posso non c'è una bella no c'è una bella 300 con due 50 sassi 300 310 310 sassi 300 ma è che la spalla piano piano scusa Maria sta a 350 Francia un rete sta a 50 200 200 200 200 è una volta 1.600 1.600 1.000 1.000 1.000 1.100 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 alle spalle sempre alle spalle 3.000 a sinistra 3.500 3.000 e 5.500 3.000 e 5.500 3.000 siamo arrivati a 3.000 e 5.500 dai ci palla aperta 3.000 5.500 e 1 3.000 3.000 e 5.500 e 1 3.000 e 6.000 3.000 il cugino di bocca 3.000 e 6.000 3.000 3.000 e 6.000 3.000 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 Quattro mila, quattro mila, quattro mila e uno. No, Luca, Luca, Luca. Siamo a quattro mila e due. Il Sandro si può pure muovere, siamo arrivati a quattro mila e cento. Quattro mila. Sempre 4.000, siamo fermi. Quando stai? Scandisci bene. 4.000. Mi alza il volume così mi sento. Quattro mila, 4.000. 4.000, 4.000, 1, 2, 3, 4.000. 4.000, 4.000 e 1, 2, 3, 4, 4.000. 4.000, 4.000 e 1, 4.000 e 2. Allora siamo a 4.000. 4.000 e 1 e non c'è nessun lato. 4.000 e 1, 4.000 e 2, 4.000 e 2, 4.000 e 3, aggiudicato. 4.000, aggiudicato. Grazie.